Rieccoci qui con il quarto episodio World True di Walking Dead Praticamente Devo riuscire ad accendere Ci sono già riuscita ad accendere questa cavolo di cosa per Fare avviare il treno Vediamo un po' No, non devo uscire, non devo uscire A parte devo liberare il treno da una carrozza bloccata Perciò dovrò prendere degli arnesi che mi faranno sbloccare Dovevo selezionare quale arnese prendo Mi sa che è meglio, vediamo un po' Prendiamo la Monkey Witch Mi ricorda una canzone dei Food Fighters Don't wanna be the Monkey Vabbè andiamo Basta dire cavolata Ok, andiamo a liberare questa carrozza Vai scendi, scendi Vai saliamo, saliamo Scendiamo Vai, vediamo un po' se riesco a liberarla Col cavolo Ho bisogno di un punch Non so cosa significa punch Maledizione Di cosa avrò bisogno? No, 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 ma sono sbagliato Maledizione No, non entrare Mi sa fai gire e ti per treno Penso se arriva il controller Bravissimo, è quello che volevo io Allora, proviamo con quest'altro Ho un ruolo di tutti quanti Oh, lo Spike Remover Ma vedi, porco d'inci Non l'avevo letto Sennò prendiamo subito lo Spike Remover Volrebbe essere questo il Il giusto coso che ci serve Il giusto attrezzo Coso Cosiamo tutti insieme Vai Ok Ok Niente Bisogna di qualcosa di potente Vabbè, intanto facciamo così Fammi partire il treno Che questo è sicuro che Tanto c'è un cane che abbaglia di fuori Un cane rabbioso Sicuramente lo sentirete anche voi Boh, boh, boh Cane zombie Entriamo dentro Allora Vediamo un po' qua come cavolo Allora Il 5 È Orizzontale Verticale Andiamo subito 5 Orizzontale Verticale Perfetto E te credo Allora Poi vediamo un po' le altre cose Cabotor No, 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 no Cabotor no Il 9 orizzontale E il 9 Ah, ok Prima a sinistra E poi a destra Ok, 9 Prima a sinistra E poi a destra Dov'è il 9 9 8 8 9 9 9 Sarà da un'altra parte il 9 Eh, infatti, questo è il problema Eh, infatti, questo è il problema Dove sta il 9 Non nasce Non è che sta fuori Look Che roba è Oh, il coso per il cibo Apriamo il cab Davanti sarà il 9, dai Dai, dai, dai So convinto C'è pure lo zombie Così è puff Eh, appunto Mortacci tua Ma che stai fuori Oh Buah, buah Ho fatto Renni il corpo Chi ho lasciato Attaccato là Non ci faccio niente No, vabbè, dai Lo vado a ammazzare Basta Mi sta da fastidio Giustizia Una pistoletta da faccia Guarda Cosa c'è qua sotto I Krakerts Io c'ho paura Che se gli sparo Arrivano altri zombie Che faccio Che faccio Cosa c'è una chiavettata Ah, chi i biscotti Chi i biscotti Oh, posso fare niente Che sparo Ah, no Certo Che faccio Sono libero Cottici Sono libero Sono cavone mio Questi hanno i biscotti Se buoni Vabbè Andiamo a morire Vado a trovare il no Senti come urla Allora Aspetta Qua c'era un qualcosa Il nove Il nove Perciò sinistra Sinistra E testa L'ho ucciso Sì, siamo Sì, siamo Gold Sì 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 con l'altra, ma non c'è sta niente. Attrezzi, mi fa più prendere. Non cattivo questo. E te pareva, manacca la miseria. Allora, lui dovrebbe partire mentre io tiro su qualcosa. Parlamoci un attimo, magari voglio... Non so niente, manco io, giustamente. Non so niente, manco io, giustamente. Non so niente. Magari adesso che? Sono un po' sbanchato. Adesso che ho fatto partire il treno? Speriamo, questo intanto... Sta a portare l'esalimento nervoso. Allora, scendiamo. Ah, ecco. Se fosse andata questa parte verso la macchina, così puoi assampare da qua. No, no. Oh, ci sono uscito. Ehi. Ehi, Kenny, non mi piace! Ehi, quello è tutto un tiro. Fantastico. Ok, allora. Un quadratore differente, non mi piace. Hai toccato nessuna cosa? Dio, perdono. Aiuto. Vabbè, dai, questo ci potrebbe dare una mano precisa. Chi sei? Chi sei? Chi sei? Chi sei. Chi sei? Chi sei? Chi sei? Chi sei? Sì, è stato un altro gruppo. Chuck C'ha pure la chitarra Chuck Che c'ha questo? Caramelle Hai delle caramelle? Dico qual è il tuo gioco man? Eh qual è il tuo gioco? Rimanere vivo? Vabbè Infatti non è male Hai conosciuto Kenny? Certamente Il figlio è il mio amore per la rosa Per sicuramente E eccomi qua dopo aver risposto al telefono Tanto c'è lo zombie lì che sta formacendo Mi sto a far sentire male Ti prego uccidiamolo È esagerato Datemi una pistola C'è lo voglio uccidere Ehi Chuck Ehi Chuck Oddio Perché sei da solo o da dove vieni? Perché sei solo Che inquadratura Che inquadratura è? Quattratura Quattratura Ma un bug La chitarra si... Suona con il culo suona Te guarda che suona Vabbè basta Ma cos'è? Infatti Lei è rimasta stupida Ma come? Quale tipo di qualcosa Vabbè va abbastanza Te faccio più domande Allora questo che dici? Siamo a scoprire Siamo a scoprire Sì Bene Siamo a scoprire Oh, figlio della tua rua! Dock è malato! sta peggio ma chi lo si? si è spaventato si è spaventato si può continuare se vuoi è vero che voglio è quello che stiamo facendo credo che lei solo vuole parlare si è parlato a tutti io mi metto a portare il treno io mi metto a portare il treno non voglio dire nulla non voglio dire nulla lasciamolo dentro la stanza da solo uaah 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 oddio uaah 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 oddio 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 mi sto sentito male povero zombie è rimasto lì così lo potevo almeno sdacciare